Benvenuti nel mondo degli orologi Kronsegla. Kronsegla si è fatto conoscere per la sua attenzione ai dettagli e l'utilizzo di materiali di alta qualità, creando un'alternativa ai marchi di orologi di lusso più noti. La gamma di orologi Kronsegla è vasta e variegata, suddivisa in tre collezioni, Classic, Sport e Vintage. Ogni collezione presenta modelli diversi, tutti caratterizzati dalla stessa attenzione ai dettagli e dall'uso di materiali pregiati. La collezione Classic di Kronsegla offre orologi dal design elegante e raffinato, con cassa in acciaio inossidabile e quadrante in smalto o madreperla. Questi orologi sono perfetti per chi cerca un orologio classico e senza tempo, adatto a qualsiasi occasione. La collezione Sport invece comprende orologi resistenti e adatti all'uso quotidiano, con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in gomma o pelle. Questi orologi sono perfetti per chi cerca un orologio robusto e resistente, adatto a qualsiasi situazione. Infine, la collezione Vintage offre orologi dallo stile retro e dal fascino unico, con cassa in acciaio inossidabile e quadrante con indici a bastone. Questi orologi sono perfetti per gli amanti del vintage e del retro, ma anche per chi cerca un orologio dallo stile unico e originale. Ma non è solo la qualità a rendere unici gli orologi Kronsegla, il rapporto qualità-prezzo è uno dei punti di forza del marchio, che offre orologi di alta qualità a prezzi accessibili.